Ciao a tutti Kugge, ben ritorno a te la vostra, André Link 91 su Inazuma Eleven 2 Continua il nostro viaggio Alla scoperta di chi sono questi misteriosi alieni che stanno cercando di invadere la terra E di appropriarsi del diritto supremo di giocare a calcio a quanto pare Ok Siamo entrati nell'ala ovest della Raimon E a quanto pare è Tutto totalmente Raso al suolo La desolazione più totale Oh la nostra sede È distrutta Sicuramente non poteva resistere ad un attacco come questo Forse era un po' fatiscente ma vederla ridotta così Mark Non gliela farò passare liscia Hanno ferito le vecchie glorie Hanno distrutto la scuola Per niente al mondo gli permetterò di farla franca Mark È inutile rimanere qui Cerchiamo un modo per scendere in palestra Sì Proviamo a chiedere in giro Magari qualcuno può aiutarci La verità è che so come fare Quindi Basterebbe andare qui Però prima voglio provare Comunque sia Ah ok Si bastava anche andare qua Non ho mai provato sinceramente a premere sulla porta Bastava andare lì Volevo un attimo andare in giro Solo per prendere un po' di materiale Un po' di Di aprire un po' di scrigni Mark con una forza sovrumana Ha divelto Quelle macerie E ora possiamo entrare No volevo solo prendere un po' di cose che c'erano in giro Ok quel passaggio potrebbe condurre la palestra in abicari Sottoterra sembra pauroso E io odio i luoghi paurosi Non avere paura del buio Le tenebre portano tranquillità Ah Jim Don't have i spuchi Blumugugna Va bene Scendiamo tutti Capitano entusiasmo Ok vado un attimo a prendere le cose che stavano in giro Perché mi ha dato la possibilità di scegliere se andare avanti o indietreggiare un attimo E io scelgo di indietreggiare giusto un attimino per prendere un po' di cose La gallina dal pollaio qua è arrivata mamma mia O dall'aia Si può chiamare aio a pollaio E quindi insomma Prendiamo un attimo un pochino di cose No volevo dire no Lui è sempre entusiasta perché È il capitano Allora deve far vedere che lui è sempre contento di qualsiasi cosa no Per tenere alto il morale della squadra Ma la verità è che Oh c'è il detective Smith qui Finalmente siete arrivati Detective Smith lei che ci fa qui Ne parliamo dopo Mark Sonny vi sta aspettando qui dentro Mi padre cosa c'è lì detective Lo vedrete una volta all'interno Ma c'è una prassi da seguire Devo perquisirvi prima di farvi entrare Devo perquisirci Sì Devo assicurarmi che non abbiate cimici nascoste Non possiamo correre rischi Mi dispiace ma questo posto è segretissimo Non muovetevi per favore Ehi E Nelly si va a nascondere perché ovviamente stanno Stanno per denudare Guardate la mia tuta È tutta strapicciata La mamma me l'aveva appena stirata E i miei capelli Tutti spettinati Avete lei di quanto ci metto per racconciarli così? Non farti il lucafro allora Mi scuso per l'inconveniente Ma era necessario Tutto a posto Potete entrare Ci mancherebbe altro Ok andiamo Wow Ah Siete tutti qui Padre tutto bene? Direttore Cos'è questo posto? Ho costruito questo centro di comando Come base operativa per le indagini sul Raidark Ma non avrei mai pensato di doverlo usare In una situazione come questa Guarda quanti macchinari e congegni Non toccare niente Potrebbe esserci qualche pulsante di autodistruzione Autodistruzione? Ah Cerchi solo di spaventarmi Direttore Cosa sa di questi invasori della Alius Academy? Che sta succedendo? Perché hanno distrutto la Raimon? Hmm Una cosa è certa Questo è un evento senza precedenti Credo che sia mio dovere Mettermi al corrente della situazione E dei poteri che possiedono questi individui Vi spiego Sonny Forse sarebbe meglio mostrargli questo Detective Smith cos'è? Un video? Sì Abbiamo appena ricevuto un filmato Dalla federazione calcistica Tenetevi forte Non è proprio un cartone animato Tenetevi forte Non mi piace per niente Pronti? Allora cominciamo Non è un cartone animato È un videogioco Non ci fate caso a quelle battute pessime Aspettate un attimo Li riconosco Sono quelli della Kirkwood Junior High Esatto La squadra del vostro amico Axel Blaze La Alius Academy si è fatta vedere anche alla Kirkwood Che te dei mostri! mo vorrei dire una cosa no 86 a 0 in genere dopo 10 gol una partita lasciate perdere cioè anche nella vita reale non mi ricordo chi era ma era una partita tra squadre importanti anche stavano avendo un dominio di 6 a 0 a metà del secondo tempo hanno detto guarda fermate sta partita perché è inutile non recupereranno mai il distacco di 6 a 0 tant'è che non la fermarono e vinsero 8 a 0 eh però insomma ci hanno provato perché comunque sia tante volte nelle squadre minori succede che c'è qualcuna che fa un sacco di gol di fila e fermano la partita ma forse in Giappone non conoscono il significato di arrendersi quindi non conta più di tanto però la cosa che mi piace di questo in Azuma Eleven è che abbiamo introdotto anche dei ragazzi finalmente ci sono c'è addirittura una squadra di calcio le Sea Youth che è un gioco di parole tra cute sea youth giovanile insomma una cosa del genere un gioco di parole fatto da loro i giapponesi non sanno parlare l'inglese le lasciamo perdere però è una cosa bella che abbiamo aggiunto le ragazze i personaggi femminili giocabili all'interno del gioco è una cosa molto carina secondo me e la cosa che hanno aggiunto è anche la possibilità di potenziare le proprie tecniche speciali infatti le abuserò tantissimo ma torniamo al gioco erano così forti ma neanche loro sono riusciti a fronteggiare l'Alius quelli sembrano gli stessi agli anni che hanno attaccato la nostra scuola esatto e le nostre informazioni ci dicono che la Kirkwood non era l'unico bersaglio sembra che la maggior parte delle scuole che hanno partecipato a Football Frontier siano state attaccate cosa? è difficile da credere ma pare che una squadra di calcio proveniente dallo spazio ci stia attaccando che cosa? non possono però so che sembra ridicolo tuttavia a giudicare dalla loro forza potrebbero essere quello che dicono dunque se ho capito bene non siamo soli nell'universo e i nostri vicini spaziali per qualche ragione sconosciuta hanno deciso di sfidarci a calcio interessante ma perché a calcio? chissà sì ci sono la verità ce l'hanno detto prima perché? perché vogliono avere la supremazia terrestra e li sfidano a calcio perché hanno visto che il calcio è lo sport con cui determiniamo che è più forte è semplice no? però Mark ha una teoria tutta quanta sua le vediamo la bellezza di questo sport deve essersi diffusa anche nei posti più sperduti dell'universo non dire sciocchezze Mark e Nelly subito lo smonta padre cosa intendi fare? le mie indagini su questa faccenda sono ancora in corso pronto? cosa? ok ho capito sì arrivederci chissà chi era ascoltate tutti ho delle brutte notizie l'Umbrella Junior High è stata appena avvertita di un imminente attacco dell'Alius Academy l'Umbrella? ma se hanno appena ricevuto l'approvazione più ufficiale per diventare una vera squadra di calcio? hanno appena cominciato e finiranno in un cumulo di pietre come da Raimon non è molto bello direttore andremo all'Umbrella e daremo una lezione a questi alieni ma vedere la nostra squadra, il campo, il club, tutti i maceri è stato davvero penoso non posso permettere che accada un'altra squadra ha ragione non mi interessa da dove vengano questi tizi dell'Alius dobbiamo mostrargli che non possono andare in giro a demolire le scuole come se niente fosse sì andiamo possiamo batterli chi altro può farlo se tutti i campioni in carica del Football Frontier? faremo attenzione direttore la prego ci lasci provare sembra che non possa far niente per fermarvi va bene avete il mio permesso ma state in guardia in giro ci sono delle persone sotto il controllo mentale dell'Alius Academy vi sfideranno a giocare a calcio non appena vi vedranno state allerta non si preoccupi siamo sempre pronti per le sfide di calcio e qui inizia il bello ah questa qua ci dice nel blog non mi interessa ora vado all'ospedale a raccontare ad Axel quello che sta succedendo grazie Silvia Mark io e Sally veniamo con te e la squadra all'Umbrella Junior High buona idea una giornalista deve trovarsi sempre nel posto giusto al momento giusto questa potrebbe essere la notizia dell'anno ok andiamo al cancello principale e poi all'Umbrella dimostreremo a quegli alieni come giochiamo a questo fantastico sport bravo Mark gliene canteremo quattro ok andiamo ah ah eccoli chi siete? siete arrivati a capolinea gli ordini di Janus sono di non farvi passare chi è Janus? oh voi siete quelli sotto il controllo dell'Alius? ok ragazzi preparatevi alla sfida dimostreremo le nostre abilità calcistiche e va così Mark di prepotenza sfondali tutti non parla nonostante la voce che gli ho dato credo sia un maschio eh ah no Kevin non è carico quindi andiamo con con Jude Law andiamo col calcio gemello come ho detto abuserà molto delle tecniche speciali sia offensive che difensive cosa che non ho fatto in una zone 11 1 questo perché si potenziano appunto come ho detto quindi ne abuserà davvero tanto certo in partita ne abusavo tantissimo oh anche la musica è diversa in partita ne abusavo già tantissimo nelle partite però al di fuori delle partite no quindi insomma preferisco proprio far usarle tantissimo usarle per favore rimettiamo lo schermo ok grazie andiamo all'ombrella ah l'ombrella era sotto l'ombrella ok oh mi ricordo sta parte eh il cancello è chiuso e non vedo nessuno in giro strano forse non sanno che gli alieni stanno arrivando non credo che le orecchie cos'è stato un terremoto ci mancherebbe anche questo Mark guarda lì sono gli stessi alieni che sono apparti da Raimon accidenti non riesco ad aprire il cancello ehi c'è qualcuno nessuna risposta pensate che gli alieni abbiano già rapito tutti quanti non voglio neanche pensarci ci deve essere un modo per entrare non c'è niente da fare dobbiamo scavalcare il cancello pip non conosco questo numero chi è che ti chiami in un momento come questo non ne ho la minima idea pronto? pronto Nelly? chi sei? che vuoi? non essere sgarbata ho avuto questo numero da tuo padre Nelly mio padre? quindi siete arrivati all'Umbrella Junior High devo dire che ci avete messo più tempo di quanto mi aspettassi e dica chi è lei? non c'è tempo per le presentazioni arriviamo al punto se andate a sinistra nel cancello troverete una breccia nel muro da lì riuscirete ad entrare nel campo della scuola è tutto per ora aspetti hai attaccato forse era la stessa persona che ha chiamato mio padre per avvisarlo dell'attacco all'Umbrella Junior High wow tuo padre ha un contatto misterioso che gli passa informazioni speciali che invidia direi che è nel momento di rispettare una vita più avventurosa secondo la donna che mi ha chiamato possiamo entrare nella scuola dando a sinistra mi chiedo se possiamo fidarci non c'è tempo per decidere se fidarsi o no andiamo a vedere aspettami Mark a sinistra del cancello? un'indicazione molto precisa sì quasi come se fosse qui nascosta da qualche parte a guardarci ma che fate ancora qui? andiamo arriviamo ok prendi il percorso segreto per l'Umbrella dov'è? eccolo qua salve aiuto ci sono degli alieni sul campo ok andiamo a vedere cosa vogliono questi alieni maledetti venite fuori ovunque siate venite davvero dallo spazio? perché vi nascondete? siete pronti alla sfida o no? che facciamo capitano? questi tizi hanno già distrutto la Ramon Junior High non c'è modo di batterli l'unica possibilità che abbiamo è di non accettare la sfida sì hai ragione è per il bene della scuola l'unico modo è rifiutarci di giocare e allora avete deciso? sì ci rifiutiamo di giocare buon Natale che codardi cosa stai facendo? distruggo la scuola ah rifiutandovi di giocare avete davvero mostrato la vostra debolezza e ammesso la vostra sconfitta perciò distruggiamo la vostra scuola aspetta smettila non puoi ehi fermati immediatamente tu? sì io Mark Evans il capitano della squadra di calcio della Ramon Junior High giocheremo nel posto dell'Umbrella che ne pensi? ti piace l'idea? Mark? ah finalmente esce allo scoperto cosa? i campioni del com'era il nome di quel torneo patetico? il Football Frontier? sì voi siete di Nazo My Eleven, vero? sai chi siamo? perfetto i vostri simili rimarranno ancora più terrorizzati quando vi sconfiggeremo dopo tutto se anche i loro migliori giocatori non riescono a fermarci alla fine perderanno le speranze tu? ascoltate bene il mio nome è Janus e noi siamo la Gemini Storm siamo venuti per decidere il vostro destino terrestri il nostro destino? chi ti credi di essere? e che stranità ti sei fatto sul gioco del calcio? il calcio non è uno strumento di oppressione è un gioco bellissimo che unisce e dà speranza alle genti di tutto il mondo forse lo capirei quando avremo vinto ma Mark Axel non c'è come possiamo sconfiggerli? di che paura Jack? noi siamo i campioni nazionali mostriamo gli risultati dei nostri duri allenamenti ma sono alieni non aver paura Jack puoi farcela possiamo farcela Jude ok sono con voi tenetevi pronti di Alius Academy vi rispegneremo nello spazio attenzione Mark è quello che dice ci faremo un pochino male eh già credete di poter utilizzare il pallone come mezzo di distruzione? beh non ve lo lasceremo fare il vostro sdegno riesce solo a farci sorridere potete tentare di fermarci se ci riuscite ma ci avete distrutto la scuola? non mi importo di che pianeta siate nessuno ha la meglio su da Ramon a calcio esatto siamo i campioni del football frontier non dimenticatelo mi sembra che sulla terra si usi dire chi porta il naso troppo alto facilmente inciampa credete che vi daremo un partita vinta? mai vi sfidiamo adios e vinceremo ok bella l'intro della partita molto bella si la formazione è perfetta nulla da ridire anche se vorrei a dire vero Nathan avanti mettiamolo così perfetto non ho altro da fare la formazione ottima 4-4-2 va benissimo ok è 4-4-2 base della Raimon però pendora e rim sono femmine come ho detto mi piace molto l'idea che ci siano anche le femmine in questo gioco non so se anche coral no coral è un maschio contro la gemini storm sarà dura sarà dura anche perché nessuna nostra tattica avrà effetto abbiamo anche le tecniche speciali in questo gioco c'è la t in alto se vedete in alto lo schermo e lo schermo inferiore intendo del touch screen appunto la loro velocità è impressionante dovrebbe andare fuori da quello che sembra no è dentro la sarebbe andata fuori comunque non può essere vero sono troppo veloci perfino più veloci della Zeus voglio la mamma com'è possibile che siano veramente venuti dallo spazio incredibile noi riusciamo a tenere passo come possiamo sperare di fermarli non vi arrendete abbiamo appena iniziato tenete duro finché non arriva Axel ormai sarà per strada sì se Axel fosse qui giusto dov'è quando abbiamo più bisogno di lui dai ragazzi non vi abbattete cominciamo con di segnare un gol e poi andiamo avanti corri Silvia non avevamo mai visto un'abilità del genere sul campo da calcio gli alieni avevano fatto un gol dopo l'altro alla fine del primo tempo il punteggio era uno schiacciante 10 a 0 per laius academy non eravamo neanche andati vicini al gol ma non ci temo per vinti sapevamo che sarebbe arrivato Axel sarebbe riuscito a segnare un gol per noi e avvolgere la partita a nostro favore così aspettammo che arrivasse cos'altro avremmo potuto fare e queste sono le vostre abilità terrestri non valete niente proprio come pensavo cosa hai detto e ti risi come facciamo a batterli hanno fatto così tanti collo che nemmeno Axel potrebbe aiutarci assegniamoci il testo dell'embrella è segnato come quello del Raimon forza il secondo tempo sta per cominciare concentriamoci sulla partita è tutto finito ragazzi abbiamo ancora qualche possibilità la partita non è ancora finita dobbiamo solo segnare il nostro primo gol sono sicuro che se ci riusciremo le cose andranno diversamente Mark c'è tempo per fare una sostituzione Axel sei qui perché ci hai messo così tanto sono forti Axel davvero forti nel primo tempo ci hanno sbaragliati lo so già quindi questa è la squadra dell'Alius Academy a il vostro cannoniere è arrivato ora ci divertiremo sarò io a divertirmi mettiamo Axel in campo se non vado errato segnare un gol in un'altra situazione quindi quello è il loro bomber Axel Blade è una buona opportunità vedremo cosa riescono a fare con lui in squadra pam 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 ok ragazzi vi farò vedere io ah forse Jim non ha ancora quella tecnica vabbè questa volta lo parerò usa la tua mano di luce Mark se riesci a passarmi la palla potrò seguire la rete Nazuma ok che succede? sembra che stia accumulando energia mano di luce ok ok ce l'ho fatta ah e più là si sbloccano anche i tiri lunghi praticamente mi sembra che si sblocchino quando Axel torna dall'allenamento d'Okinawa ma molto più là nel gioco verso la fine prendete questo a rete Nazuma vai yeah beh ma neanche un po' di scrella che tiro in surso era quello? come? non stava neanche guardando la palla nel menzo del rete Nazuma ha funzionato e questa sarebbe una tecnica speciale immagino gli umani non sappiano fare di meglio accidenti no non ci sono limiti alle possibilità di noi umani Mark non è ancora capito quando è caso di arrendersi eh il tuo patatico ottimismo ti porterà alla rovina si potrebbe dire che non arrendersi mai siano delle nostre tecniche speciali eh giù da ragione non ci siamo mai arresi neanche quando la situazione sembrava disperata non abbiamo paura di voi alieni stupidi oltre che deboli non smettete di stupire i miei terrestri pensate che abbiamo intenzione di farci la parte per voi scordatevelo prendete questo ali di fuoco ha una scattola repentina scattola repentina cosa ma come dricling rovente no nera troppo veloce devo farcela mano del col- dov'è la palla non sono umani sono su tutto un altro livello marco no l'alius academy ci schiacciò anche con axel e squadra non segniamo un solo gol i giocatori erano crollati uno a uno non riuscivamo neanche a muoverci era tutto finito avevamo perso no non può essere direi che il risultato parla da sé e ora dite addio alla vostra scuola no non puoi farlo togliti di mezzo sciocco aspetta mark no non posso io fallo no fermati altrimenti noi se non sbaglio voi terrestri avete un modo di dire adatto a questa situazione che anche abbaia non morde fermati no 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 non ce l'ho fatta non sono in riuscito a sconfiggerli su con la vita mark non siamo così malconci si l'abbiamo preso solo perché eravamo fuori all'allenamento è vero mark torniamo subito ad allenarci andia ai 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 no timo non farò troppi sforzi scusami capitano sono così deluso da me stesso se solo fosse stato più forte la gemina storm non ci avrebbe battuto lo so se se avessimo sconfitti avremmo potuto evitare la distruzione dell'ombrella junior high e nessuno di noi sarebbe finito in queste condizioni è completamente ragione nelli non si non si tratta solo dell'ombrella junior high in questo momento quei dell'allius academy stanno distruggendo le scuole di tutto il paese pensate che sia questo il momento di stare qui a leccarvi le ferite dovete uscire di qui a fermare l'allius ora questo è il vostro compito avete forse dimenticato che siete campioni del football frontier nelli va bene muoviamoci muovia mark chi è ora quello che si sta sforzando troppo ti sei fatto male anche tu ma dobbiamo andare si hai ragione dovete andare allenatore hillman dovete andare a campo da calcio della raymond il più presto possibile sonny vi sta aspettando mio padre ci aspetta al campo da calcio di cosa potrebbe trattarsi forse cominceremo un nuovo allenamento intensivo per affrontare la prossima partita contro l'allius academy non riesce a pensare altro che al calcio cosa stiamo aspettando andiamo al campo mark eccoci qua la raymond allenatore allenatore hillman direttore noi lo so mark non eravate ancora pronti per battere una squadra come l'allius non penso che ci sia qualcuno in grado di batterli padre cosa possiamo fare non possiamo tornarcelo a casa con la coda fra le gambe non succederà vi rimane solo una cosa da fare dovete ingaggiare i migliori giocatori e formare una super squadra capace di sconfiggere l'allius e salvarci tutti quanti una super squadra studenti della raymond vorrei mostrarvi il progetto su cui ho lavorato tutto questo tempo il mio piano originale era quello di usarlo per proteggere il mondo dal pallone delle grinfie di ride arc tuttavia ho deciso di darlo a voi usatelo per il vostro viaggio per formare la squadra che ci salverà dall'allius academy viaggio padre che significa ammirate ma che sta succedendo Quando mai però si vede una cosa succedere nella realtà che il campo di calcio si apre non succederà mai Allora che ne pensate? Questo è il vostro nuovo autobus in Azuma Con questo andate in giro per il paese alla ricerca dei migliori giocatori in circolazione Proprio così Mark Inutile continuare a pensare alla sconfitta contro l'Alius Wow, un viaggio della ricerca dei migliori giocatori in circolazione Non vedo l'ora di partire Aspetta un attimo Siamo tutti dei ragazzini Chi guiderà l'autobus? Hai ragione L'unica persona adulta nella squadra è l'allenatore Hillman Guiderò io Signor Petran, sta meglio? Sì, ho ancora qualche dolorino ma sono sicuro di riuscire a guidare Fantastico, allora dovremmo essere pronti a partire Mettiamoci in viaggio ragazzi Ah, che vi succede? Mark, io... Mark Forse stiamo facendo il passo più lungo della gamba L'Alius Academy avanti anni luce rispetto alle squadre affrontate finora Incluso la Royal Academy e la Theus Junior High Ma che vi succede? Non ci siamo mai tirati indietro di fronte a nessuno Non è così che siamo arrivati fin qui? Allenatore Hillman gli ho dica a lei Se stiamo uniti nessuno potrà Mark, devo dirti una cosa Temo di non poter venire con voi Non dovete affrontare questo viaggio da soli Cosa? Per noi l'Alius Academy è ancora un mistero Non sappiamo quasi niente di loro Sarebbe sciocco affrontarli alla cieca L'allenatore Hillman sotto il mio comando Farà ricerche sull'Alius Cercando più informazioni possibili Non riesco a crederci Dobbiamo affrontare i nostri avversari più temibili Senza il nostro allenatore Ma se l'allenatore Hillman non viene Chi prenderà il suo posto? Ha ragione Potremmo anche mettere su una buona squadra Ma senza allenatore Davvero commoventi Siete ancora dei mocciosi Che hanno bisogno di essere portati per mano Ovunque Ma chi ha parlato? Direttore Sarebbe questa la miglior squadra del paese? Chi è? Mai vista Non sa Ma lei chi è? Ascoltatemi tutti Sono la nuova allenatrice della Raymond Il mio nome è Lena Schiller Ma padre Wow è fantastica Non capisco perché Tutta quanta questa sorpresa È una donna Allora? E lei sarebbe la nuova allenatrice Dice sul serio? Direttore Possiamo davvero fidarci di questi ragazzini Per salvare il futuro del nostro paese Hanno già perso una volta Contro l'Alius Academy Cosa le fa pensare Che possono fare meglio La prossima volta? Che insolente Questa volta vinceremo Dopo aver perso con loro Siamo ancora più motivati Molto un assicurante Ma credo che vi manchi Qualche giocatore Vero? Ah Sì Qualcuno è ancora in ospedale Allora non ha senso Che saliate su quell'autobus per ora? Per cominciare Dovresti trovare giocatori Che mancano Per completare la squadra Vediamo Per una squadra di calcio Ne servono 11 Qui siamo in 8 Quindi ci servono 1 2 3 giocatori Immagino che dovremmo Ingaggiare qualcun altro Guarda come è ridotta la squadra Dovotevremo 3 giocatori di calcio? Ah non mi guardi così Con detto Siete degli incapaci Prima ho dovuto dirvi dove andare E ora anche questo Avete sempre bisogno di essere presi per mano? Ora capisco È stato lei Chiamare a darmi indicazioni Per il campo dell'Umbrella E immagino che sia stato sempre lei Chiamare mio padre Per avvisarlo del nuovo obiettivo Della Lius Academy Vero? Esattamente E ora vi dico un'altra cosa Dovete tornare all'Umbrella Junior High Tornare all'Umbrella? La scuola è stata ridotta in macerie Ma nessun degli studenti È stato ferito durante l'attacco Penso che sia posto migliore Dove ingaggiare dei giocatori Che provano un rancore verso Lius Giusto Non penso che l'abbiano presa bene Inoltre Bobby Shearer E Derek Eagle Dovrebbe tornare presto Della Kirkwood Andate alla stazione Per incontrarli E aggiungerli al gruppo Sa di Bobby Sa di Bobby ed Eric? Naturalmente Quando alluno è una squadra Devo conoscere tutto di ogni giocatore Però Ok È meglio che vi mettete in marcia L'Ailis potrebbe già aver messo in moto La fase successiva del suo piano Dobbiamo prepararci ad affrontarli Niente da ridire Tss Davvero arrogante Chi si crede di essere? Cominciate ad andare Mark Non posso partire senza aver salutato Giulia Probabilmente non la rivedrò per un po' Sì È davvero un peccato Doversene andare Ora che si è svegliata Sono sicuro che capirà Vi raggiungo dopo Ok A dopo Va bene Mark Andiamo a parlare con Bobby e Derek E a ingaggiare qualche giocatore Dell'Ambrella Junior High Non appena la squadra sarà completa Ci metteremo in viaggio Comincio a vedere la luce Alla fine del tunnel Andiamo Sì Evviva Padre Che tipo è la nuova allenatrice? Voglio sapere tutto di lei Visto che si occuperà della squadra Mmm A dire la verità non la conosco molto bene È una persona piuttosto riservata Tu sei il capo della federazione calcistica studentesca E non sei nulla di lei? Non ti sembra un po' azzardato Mettere la squadra nelle maglie una sconosciuta? Andrà tutto bene Non devi preoccuparti di questo Ma Sei tu invece che mi preoccupi Nelly Cerchi sempre di risolvere i problemi da sola Proderai se continui di questo passo Devi imparare a delegare quando il fardello ti viene troppo pesante E ad accettare le offerte di aiuto dei tuoi amici Impossibile Il mio compito è quello di assicurarmi che vada tutto liscio Non voglio neanche immaginare cosa potrebbero combinare Mark e gli altri senza la mia supervisione Mark Mmm Volevo starete molto tempo insieme durante questo viaggio Confesso che come genitore sono un po' perplesso Padre! Che cosa stai cercando di dire? Haha Sto scherzando Nelly Ma mi raccomando Non farmi stare in pensiero Sono tuo padre Mi preoccupo per te Lo so, grazie Uuuuh Il video sta venendo un pochino più lungo di quello che mi aspettavo Ma va bene così dai La prima di parlare mi assicuro di prendere tutti quanti gli oggetti Eccolo qua Eric e Bobby Mark Mark È vero che la Raymond è cauta sotto i colpi dell'Alius? Sì Sì, è vero Lo stesso è successo alla Kirkwood Quando siamo arrivati era tutto Capisco Non riesco a crederci se solo fossimo arrivati prima Non ci sarebbe stato alcun modo di batterli anche se fossimo arrivati prima Eric Bobbi Sono alieni dallo spazio Cioè Chi sono quelli dell'Alius? Non sappiamo proprio niente di loro Come abbiamo potuto permettere che questo accadesse ai nostri amici? La cera che distruggessero la Raymond e la Kirkwood Alieni o non alieni Non abbiamo saputo tenergli testa Siamo conti Mark Abbiamo inconti in sospeso con l'Alius Academy Anche noi È bello di avervi con noi Mark Ti aspettiamo qui Torna a prenderci quando sei pronto a partire Adesso Certo Bobbi anche tu dai Posso scegliere tra questi 5? Sceglierò Edmond Edmonds Non Edmond Edmonds Ascoltate tutti Abbiamo di fronte un viaggio che si prospetta lungo e difficile Voglio che andate tutti a salutare le vostre famiglie Salutare? Come se non dovessimo tornare mai più Non dire case del genere Non abbiate paura Ora sconfiggeremo l'Alius Academy E torneremo per festeggiare con i nostri cari Ma non possiamo andarci senza dire nulla Mia madre non me lo perdonerebbe mai Hai ragione Non dovremmo lasciare i nostri genitori in pensiero Dividiamoci e andiamo a salutare le nostre famiglie Ci rivediamo quando abbiamo finito Ok ma non sopporto gli addi Sono così imbarazzanti Hai paura che i miei saranno un po' sconvolti Quando gli tiro di punti in bianco Che vado a fare un viaggio per il paese Oh Se dobbiamo stare io per un bel po' Fare meglio dedicarmi alla mia scorta serata di dolciumi Finché posso Oppure portarti un cambio di mutande? Deciarpo siamo cresciuti Per essere sempre pronti a lasciare tutto all'improvviso E a metterci in marcia Ok Mark ci vediamo fra un po' A dopo Va bene fare meglio di andare anch'io Devo salutare mamma e papà E non naturalmente Oh sei tornato Ciao Mark Ho appena finito di prepararti le cose per il viaggio So bene come sporchi facilmente i vestiti di fango Quindi ho preparato un bel po' di cambi Mamma Aspetta un attimo Come facevi a sapere della mia partenza? Mark Per chi mi ha preso Saluto mamma dopo tutto Quando sono apparsi quegli alieni Era facile prevedere che non sareste rimasto con le mani in mano Ora ascolta Non azzardarti a tornare Se prima non avrai sistemato le cose con quei perfidi alieni Chiaro? Se ti arrendi E vasi tornare a casa Non ti faccio nemmeno entrare Per niente al mondo Mamma papà Grazie Ci vediamo Oh solo un attimo Nonno Sconfiggerò la News Academy Mi batterò per il futuro di questo splendido gioco che si chiama Calcio Proteggici ok? Bene Ciao a tutti allora L'idea di perdere non gli passa neanche per la testa vero? Ho sempre pensato che quel ragazzo sarebbe cresciuto così un giorno Ma non mi aspettavo che succedesse tanto in fretta Anche mio padre è piaciuto molto per il paese giocando a calcio Mark è proprio tale e quale a lui Papà aiutalo se puoi Mark Urrà Ok Mark Torniamo da Raimon Probabilmente Axel sarà già tornato dall'ospedale Ok va bene Andiamo a cercare Axel e mettiamoci in marcia Alice Academy Stiamo arrivando Avete mento una volta Ma non è ancora finita Sì�� Devo assentarmi per un po' Giulia No Mi dispiace andare via proprio ora che sei sulla via della guarigione Ma te lo prometto, tornerò presto e sarò di nuovo al tuo fianco per proteggerti. Non permetterò più a nessuno di farti del male. Sì, buono fatto, Max. Grazie, Giulia. Ciao. Come previsto, la sua forza mentale e il suo spirito sono eccezionali. Cosa facciamo? Non temere, le persone possono essere facilmente controllate, ne bisogna trovare la maniera adatta. Voi non avete idea di quello a cui stavo pensando io. Praticamente stavo pensando di fare Inazuma Eleven 2 però con i dialoghi del cartone animato, dell'anime. E metterli qui a posto dei dialoghi del gioco che più o meno sono uguali, più o meno. Però ho pensato, io sono uno di quei canali gameplay standard che carica ogni giorno come non ci fosse un domani. E non sono uno di quelli che carica un video a settimana però insomma ha studiato bene nei minimi particolari. Quindi ho pensato, se lo faccio devo innanzitutto rimandare Inazuma Eleven ad Ando Nuovo. Ma più che altro devo mettermi sotto con l'editing dei video. Ma devo anche trovare tutti quanti gli episodi di Inazuma Eleven 2. Non è tanto il trovarli e lo scaricarli, ma tanto il lavoro che c'è da fare di editing dietro. E' quello che porta via tanto tempo. Se fossi stato un team con altre 4-5 persone avrei anche potuto farlo. Ma sono da solo e non ce la sbatti di fare tutto quanto questo lavoro. Però sarebbe davvero bello farlo. Ma non lo farò. Era giusto per dirvi quello che mi passa per la testa. Chi è questo? Ehi, scusa, ti ho appena avrei volto la parola e tu neanche... Ciao, mi dici? Non parla. Chi era quello? Un suo amico? Sì, mettiamola così. Begli amici. La mia vita sociale non ha importanza in questo momento. Siete pronti a partire? Stiamo solo aspettando Axel. Ah! Non farmi spaventare! Avevo completamente dimenticato! Marco, dove vai? Ma che fa? Ahà, presa! Che cos'è? È la targa del nostro club di calcio. Wow! Il club è completamente distrutto ma la targa sembra essere intatta. Quello che lei luce a Katia mi ha fatto è imperdonabile. È contro lo spirito del calcio giocare per causare sofferenza e distruzione. Ti mostreremo che cos'è davvero il calcio. Sono con te, Mark. Li affronteremo di nuovo e questa volta vinceremo. Proprio come faresti tu, Mark. Non molli neanche di fronte alle sfide impossibili, vero? E anche io non mollerò. Questo è lo spirito giusto. Comincia la nuova avventura della Raimon Eleven. Facciamo per tutti quelli che stanno ora in ospedale. Non ci posso credere. Crederemo gli alieni. E... Non ti possa servire a portare a casa la vittoria. Pensa a qualcosa di più efficace. Eheh. Ahaha. Oh, Axel, ecco di qui. Sei riuscito a salutare tua sorella? Che ti è successo? Cosa c'è che non va? Giulia, sta bene? Non è niente. L'ho salutata e ora possiamo andare. Aspetta, Mark. E se mi... Mh? Niente, non farci caso. Ora siete in undici. Lasciamo Tokyo e andiamo a cercare altri giocatori. Siete pronti? Sì! Siamo la squadra migliore in Giappone. Se non battiamo noi la News Academy, chi può farlo? Avete ancora tanto da imparare. Ci sono delle squadre eccellenti che sdobbano i Football Frontier. Cosa? Com'è possibile? Alcune appartengono a squadre che non hanno nessun interesse a partecipare. E altre sono state considerate dare dark e troppo pericolose. Ce ne sono in tutto il paese. Davvero? Davvero? Posso assicurartelo? Quindi, fossi in voi, c'entri piano a definirvi la migliore squadra del paese. Wow, ma è fantastico! Ci sono giocatori molto più bravi di quello che pensassimo. Andiamo a cercarli! Direttore, brutte notizie! Il primo ministro Vanguard era in visita ufficiale a Nara quando la News Academy è attaccato. Che cosa? Il primo ministro, come sta? Non lo sappiamo. Lo hanno rapito. Ma perché? Che cosa vogliono il primo ministro? Dobbiamo muoverci subito. Potremmo trovare degli indizi a Nara. Ok, qualsiasi cosa la News Academy sta cercando di fare è il nostro compito intervenire. Restate sempre uniti. Ho fiducia in voi. Potete battere la News. Grazie allenatore Ilman. Andiamo a Nara! Tutti sull'autobus. Jack, che succede? Hai bisogno di un uovo del bagno? No! Solo che gli alieni che ci attaccano? Una uova allenatrice? Tutto sembra così complicato che non riesco nemmeno a pensare. Andiamo, Jack. Non ha senso rimuginare su cose che non riesci a capire. Devi solo pensare che sconfiggeremo l'alio se salveremo la buona reputazione del calcio. Sì, hai ragione. Farò del mio meglio, allora. Rendici orgogliosi, Mark. Sì, se vi ricordate Byron Love gli aveva dato quella voce da effemminato. È quasi ora di andare. Mark, anche tu hai paura? Nemmeno un pochino. Non sono mai stato così entusiasta prima d'ora. Ma ci pensi. I migliori giocatori del paese ci stanno aspettando. Non vedo l'ora di vederli giocare. Come fai a essere entusiasta in momenti come questi? È tipico di te, Mark. Per questo è il nostro capitano. Ok, si parte! Porta la Leon, Ale, Ale! Cringy! Dovresti tirarti un po' su, Axel. Un po' su, Axel. D'anticipazioni Ma come mai ci scambiano per alieni? Lo scoprirai nel prossimo capitolo Il mistero del pallone nero Axel, che ti succede? Ok, la videocamera mi ha abbandonato Quindi direi che per questo Videocuge è tutto E sono proprio in tempo limite Registrazione, ad ogni modo e come sempre Vi ringrazio per aver seguito anche questo video Non pensavo venisse così lungo Davvero Mi ricordavo che era molto lunga la prima parte Ma non pensavo così tanto Ad ogni modo Io vi do appuntamento domani Con un altro video di Nazo My Eleven alle 3 E vi ricordo alle 8 Con un nuovo video di Yo-Kai Watch Bye Bye Ciao Grazie a tutti.